è geloso? è geloso per alimentare il sacro fuoco di plaza di parto dopo pranzo è necessario andare a raccogliere l'altra regia rigorosamente secca quindi la prendiamo vicino al lago dove è già secca e la possiamo prendere se ne ha fatto la passeggiata questo è il primo giro che abbiamo fatto prima dopodiché per la notte penso che comincieremo l'abbattimento di alberi di chioma verde si ovviamente ragazzi c'è dell'ironia dietro le parole di Sergio che non vengano prese sul serio assolutamente dobbiamo avere intenzione di iniziare da quest'albero qui davanti a noi per togliere un po' d'ombra assolutamente anche perché il campo base come possiamo vedere l'abbiamo ampliato e abbiamo secondo me preso il dominio di tutta l'area che ci circonda andiamo a prendere l'altra legna? sì un pochino no dai che c'è? sì eh questo per alimentare la disputa andiamo dai andiamo a prendere la legna ciao ehi chi ha fatto la legna? Ale? andiamo 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 a lavorare eccole lì le altre truppe in fondo a raccogliere legna ma chi sono? guarda che tramontino laggiù ehi no ahò 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 e noi che pensavamo che le truppe si avessero abbandonate assolutamente ma che ci fa naia qua ragazzi? la stiamo ritrovando da dietro guarda con il battimento, il portacandine no, se vi buttate in un pozzo nero uscite più puliti di prima meno male sono arrivati non potremmo fare un po' d'altra monnezza grossa? grossa come prima ho trovato per strada ho capito però lo lasciavi se prendeva ritorno ragazzi aspetta però voglio farvi vedere Emanuele come stava camminando ok? faremo ora tutti quanti delle coroncine con le piume ci possiamo mettere la cenere qui perciò noi adesso prepariamo le strisce e poi ognuno decorerà la sua striscia da indiana ma mi sono perso il primo pezzo perché lo facciamo? lo facciamo perché oggi è martedì grasso e quindi è carnevale e nella nostra comunità di rituale si festeggia il carnevale molto bene è devastante le mancano un'altra ancora una qua? ah ok questi sono i preparativi per la cerimonia di stasera allora ne dovremmo fare ancora altre siamo 10 eh? guardate ragazzi oh stasera verrà una cerimonia dobbiamo farne altre perché vabbè ci si spiazza domani dopo pranzo ragazzi Dara Dara Sara guardate che manina non spero viacere capite? quasi quasi faccio un tour dell'accampamento in notturna allora qui abbiamo il sacro fuoco ecco qui abbiamo il sacro fuoco che è acceso da quanti giorni? 12 minuti qui c'è l'aria comune il compito che abbiamo la mattina quando ci svegliamo è mettere un ciocco sul fuoco esatto e stappare una birra aria ricreativa a premessa della cerimonia che avrà breve di premiazione no di incoronazione Matteo sta facendo delle foglie che non sembrano foglie ragazzi ragazzi eh perché a voi questa sembra una foglia quella non è una foglia quella è la mia l'ho fatta apposto cioè quella non è ambigua quella è proprio così fava de foco fava de foco questo sarà il tuo nome fava di foco fava di foco ciao Gigi aiuto cuoco soffia naira stai preparando la pappa per coca e naia vero? si scotta? perfetto scotta? abbia inizio la cerimonia mettiamo la calda sta luce fa schifo eh eh sì questo vorreste fare un po' di cinema quindi vai fa diamo la luce calda ma si può mentre è calda? ci mette questa se dura nessuno ha fatto cinema qua ragazzi è il Pedro ragazzi intanto vi spiego quando vi chiamiamo andate prima da Silvia che vi fa i segni sulla faccia allora amici e amiche della comunità di Vignuela siamo qui per festeggiare il nostro primo carnevale si faccia avanti Manu Aquilasaggia applauso ma chi l'ha certo il nome? è il mezzo io mi volevo chiamare Tolo Seduto wow Ale Ale ciocco tonante Ale ciocco tonante ciocco tonante ecco ciao ciao grazie Sara lupa sorridente wow 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 daria cavalla scatenata wow wow non era scalciante scalciante sì ti faccio avanti Sergio formica devastante wow vai Sergio ja alright Luca, uccello fumante! E per ultimo, Matteo, papa di poco! Ah, mi sto dieci volte e hai già sbagliato l'unico! Aspetta, da notare in reggiluce artificiale! Ragazzi, grazie a vincere il carnevale della comunità di Michele! Diego, sei stato bravissimo! Nooo, vatti! Aspetta, aspetta! E ora si mangia! L'Aquila saggia! Facciamo un'attenzione particolare alle piume! Piume! Messaggi sublimi! Ma che è questo? Il giro. Il turmatore! Dai, uscelriti le bambelino! a me quando le vado in aria a me quando le vado in aria